Non molla la presa il Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. In piena estate sotto un sole rovente i consiglieri comunali di Campobasso hanno organizzato una conferenza stampa davanti ai cancelli della scuola di via Sant'Antonio de Lazzari, la struttura che a settembre ospiterà gli alunni della primaria di via Crispi. I lavori per il completamento dell'edificio vanno avanti ma i consiglieri 5 Stelle contestano le modifiche apportate al progetto originario e definiscono la nuova scuola una sorta di carcere circondata da muri e cancelli e da una vera e propria colata di asfalto senza un albero, un minimo di spazi verdi. Siamo qui oggi invece per denunciare un fatto gravissimo accaduto qualche giorno fa ovvero abbiamo visto questa scuola essere circondata da una colata di asfalto. La cosa ci è sembrata strana, abbiamo verificato facendo accesso agli atti e abbiamo puntualmente visto che il progetto originario di qualche anno fa risalente alla vecchia amministrazione prevedeva così come norma in una scuola materna prevedeva tutte le aree esterne attrezzate a verde quindi una scuola che aveva anche un impatto estetico e pedagogico importante e sicuramente idoneo. Invece con perizia di variante di aprile 2016 la giunta battista ha ritenuto opportuno approvare questa vergogna perché veramente non si può definire diversamente perché una scuola materna non può essere concepita in questo modo. Una colata d'asfalto che rende l'intero piazzale completamente inaccessibile ai bambini, ci saranno esalazioni, ci saranno temperature impraticabili ma soprattutto quello che vogliamo è che il sindaco spieghi e l'assessore Maio spieghi alla città di Campobasso i motivi di questa modifica perché dalle relazioni annesse alla perizia di variante non c'è alcuna traccia di una motivazione. C'è anche la vicenda delle indagini geologiche? Sì, in qualche modo potrebbe entrarci anche questa vicenda perché stranamente e contrariamente alle leggi il costruttore che sta realizzando questa scuola ha offerto ovvero regalato all'amministrazione i rilievi e le indagini geologiche. La legge invece prevede che sia l'amministrazione a commissionare e ovviamente pagare le indagini geologiche proprio per garantire quella neutralità, quel ruolo di controllore che non deve coincidere come in questo caso col controllato. Questa scuola è una scuola sicuramente che non mette il bambino al centro del progetto. Quelle che devono essere degli aspetti migliorativi quindi degli indagini migliorativi, migliorativi non sono e ci preme in qualche modo sottolineare che probabilmente almeno la prima variante, quella che è intervenuta sulla recinzione esterna, una recinzione contenitiva, probabilmente se ci fosse stata la relazione geologica, quella prevista per legge che in qualche modo è latitante, non sarebbe stato necessario intervenire in questo senso. Questo non lo potremo mai scoprire, purtroppo queste deficienze progettuali ci hanno portato a quello che oggi stiamo denunciando.